Udienza preliminare nell'Aula Bunker di La Mezza Eterna e riflettori sulla supercosca Zingari Fora Stefano si terrà lunedì 29 aprile nell'Aula Bunker di Catanzaro. L'udienza preliminare per gli 80 indegati nell'inchiesta Atena, la maxinchiesta anti-indrangheta, aveva svelato gli interessi della supercosca degli Zingari consorziata con quella dei Fora Stefano. Su molte imprese, prevalentemente agricole e turistiche della Sibaritide, riferite al periodo 2018-2020. L'operazione era scattata all'alba del 30 giugno scorso, impiegando centinaia tra carabinieri del nucleo investigativo, reparto operativo Comando Provinciale di Cosenza, Polizia di Stato con il personale delle squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio Centrale Operativo di Roma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, diretta dall'allora procuratore Nicola Gratteri. Grazie a tutti.